La pista politica è da escludere, dicono gli inquirenti. Le indagini sono ancora in corso e proseguiranno sino a quando non sarà chiaro il movente che ha spinto l'albanese Igli Cambiri, 29 anni, numerosi precedenti penali alle spalle e l'andriese Francesco Sibilano, 28 anni, a tendere un agguato al consigliere comunale nonché capogruppo del Partito Democratico di Barletta Pasquale Ventura. Cambiri e Sibilano sono stati fermati questa notte dalla polizia su disposizione del PM della procura di trani Mirella Conticelli. Sono loro i due sicari che lo scorso 20 gennaio, con il volto coperto da un casco a bordo di una moto di grossa cilindrata, attesero che Ventura uscisse dall'appartamento di sua figlia in via Firenze a Barletta per esplodergli due colpi di pistola quasi certamente nel tentativo di ucciderlo. Ventura rimase illeso nell'agguato, mentre i due uomini a bordo della moto riuscirono a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Le telecamere di videosorveglianza sparse per la città hanno ripreso il percorso compiuto dai due sicari durante la fuga, ma la polizia è riuscita ad incastrarli, esaminando il profilo Facebook di alcuni sospettati e trovando su quello di Sibilano le immagini della motocicletta utilizzata nell'agguato. Nell'appartamento di Cambiri, in Vico dei Campi, piccola traversa di via Roma a Barletta, sono stati ritrovati i caschi indossati dai sicari e nascoste in un guanto 13 munizioni, 3,57 Magnum compatibili con quelle utilizzate nell'agguato ai danni di Ventura. Non è ancora stata rinvenuta invece l'arma del delitto, quasi certamente un revolver, dato che sul luogo della sparatoria non sono stati rilevati bossoli di alcun tipo. La polizia è entrata in azione prima che Cambiri lasciasse Barletta per partire verso il centro nord dell'Italia. Per il movente dell'agguato, gli investigatori invece continuano a scandagliare la vita privata e professionale di Ventura.